L'assessore regionale Lucia Fortini comunica che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha stanziato 80 milioni per l'avviso Smart Class, rivolto alle scuole del primo ciclo, primaria e secondaria di primo grado. Il finanziamento arriva ad un massimo di 13.000 euro, di cui almeno il 90% deve essere investito per strumenti tecnologici come personal computers e tablet. La piattaforma www.istruzione.it.pon per presentare le domande è attiva fino alle ore 15 del 27 aprile. I punteggi più alti in graduatoria saranno attribuiti alle scuole con un tasso significativo di deprivazione territoriale, livello elevato di disagio, status socio-economico e percentuale di abbandono elevati. La Regione Campania dà il via concreto anche al bando lo studio, relativo alle borse di studio per l'anno scolastico 2019-2020. Il termine ultimo per la presentazione è fissato per le ore 15 del 7 maggio 2020. Le domande potranno essere inoltrate sulla piattaforma iostudio.regione.campania.it per farne concreta richiesta. Per le comunicazioni con la Regione Campania è già attivo l'indirizzo di posta elettronica helpdesk.io studio at ifelcampania.it. Per partecipare al bando con le famiglie sempre promosso dalla Regione Campania è possibile inoltrare le richieste dalle ore 9 del 27 aprile fino alla mezzanotte del 7 maggio. È già operativo l'indirizzo di posta elettronica helpdesk.conlefamiglie at ifelcampania.it. Per qualsiasi tipo di informazione, per l'assistenza diretta alla compilazione della domanda, sarà attivato il giorno 27 aprile un numero verde dedicato.